Buongiorno a tutti, eccoci qui prontissimi per un nuovo video di Gossip TV. Parliamo di Grande Fratello, perché è sempre con questo programma a tempo di polemiche, anche se siamo ormai a ridosso dalla finale che sta per arrivare, lo ricordo, è il 3 di aprile. Stavolta, ad essere al centro dell'attenzione, sono Edoardo Tavassi e Micolin Corvaia, con un intervento arrivato direttamente dall'esterno della casa, che è stato notato da tutti i telespettatori. C'è stato un attacco, un attacco implicito però, implicito sì, ma allo stesso tempo molto chiaro, da parte di una persona vicinissima al fratello di Gwendalina, che ha voluto chiarire una volta per tutte chi sia realmente lui. Parole nette, parole chiare, che sperano possano in qualche modo chiudere l'argomento. Intanto, al GFVIP7 si è parlato anche di altro e non soltanto di Edoardo Tavassi e Micolin Corvaia, che ormai compongono una coppia da diverso tempo. Nella casa più spiata d'Italia sono esplose le polemiche per il gestaccio fatto a Nikita Pelizon dagli altri vipponi. Durante la sorpresa della famiglia di lei, i coinquilini se ne sono infischiati di quel momento dedicato alla ragazza e hanno abbandonato i rispettivi posti sul divano per andare a fare altro. E non l'hanno nemmeno abbracciata, tranne Milena, quando è uscita dalla Mystery Room. Nella semifinale del GFVIP7 c'è stato un durissimo scontro, che ha riguardato inevitabilmente anche Edoardo Tavassi. L'ex GFina Antonella Fiordelisi ha avuto un confronto scoppiettante con Micolin Corvaia e sono volate critiche pesantissime. Ad esempio, la fidanzata di Donna Maria ha fatto un paragone inequivocabile. Io sono una Ferrari e tu solamente una panda, in stile Shakira Piqué, con la cantante che aveva detto di essere una Ferrari e la nuova partner dell'ex marito una Twingo. A rompere il silenzio sugli incorvassi è stata Emanuela Fuin, che è la mamma di Edoardo Tavassi. La donna ha condiviso un messaggio, che diceva, «Micola è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno». E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza. E la donna ha aggiunto sui social. E aggiungerei che accanto Micola ha un vero uomo, non uno slave, schiavo N. D. R. E un utente Twitter ritiene che ce l'avesse con Donna Maria, la mamma di Tavassi che dà a Edo Baudello Slave. Staremo a vedere se Edoardo Donna Maria o Antonella Fiordelisi se la sentiranno di replicare alla donna, anche se ovviamente non ha fatto i loro nomi in maniera esplicita. Una situazione tutta in divenire, che potrebbe avere sviluppi prima della finale del 3 aprile.